c'è l'olio d'oliva non viene manco tanto se d'oliva e qui una chicca con l'avocado ragazzi siamo arrivati al mio reparto preferito della pasta in scatola mia sorella se l'è mangiata sia i ravioli che spaghetti con le meatball le polpettine i mini ravioli si è mangiata un po' tutto diceva che era buono e potevano mancare macaroni cheese ci hanno un po' tutto in scatola pure la carne questa la vuoi? la butti? papadroll ci stanno pure i macaroni cheese di papadroll da altri cartoni pure la knorr sempre questa pasta al freddo poteva mancare la pasta con l'aglio per la polenta con i ricelli con l'olio d'olivo gli uman poteva non fare pure la passata del pomodoro che cos'è? cicci bologna cioccolati e fino all'aggiù sono tutti 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 kellogg's o comunque cornflakes di tutti tipi con i lamponi le fragole il miele la vaniglia ma sono andotti la colazione sono croccanti sembrano e ci hanno detto che sono buoni ma questi sono altro tipo questi sono la frutta i cavallini i cavallini la tigre guarda quanta tigre e non poteva mancare la vena di oggi tanti tigri guarda mamma qui stanno facendo i lavori stanno riempiendo ma date un'occhiata barbecue qui c'è da alapegno di alapegno com'è il coso al peperoncino col cheddar e caramello 793 grammi io facciamo una carrellata perché queste sono buonissime salate da morì ma buonissime poteva mancare mozzarella e marinara mozzarella non ti ricordi più cos'è mozzarella questa barbecue la dottor pepper noi volevamo provare una ma non se ne compra da sola tutta che non riusciamo a leggere sono 4 litri bidoni di latte pure questi 3 litri e 8 eppure qui ce l'hanno davanti di latte i minuscoli di formaggio pure questi di cheddar 2 kg e 2 che sono queste? patate patate? si no il formaggio mamma patata 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 il barattolo mi hanno sempre intigato non ho capito come si fanno però le prenderei solo solo per vedere che ci esce fuori da qui addirittura il croissant oddio la pizza pure in barattolo abbiamo rischiato un incidente stradale con un altro carrellone con? no butter butter matto 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 da fare al microtonde matto 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 papà è il mio Valentino mamma 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 tolgo si e questa è tutta l'altra parte di walmart dove c'è tutto elettrodomestici vestiti poi che c'è? libri trucchi ferramenta e peccini scantata da abuchen è una cosa meravigliosa quel video non rende per niente Quello è l'Empire, dovrebbe essere quello colorato qui davanti. Da questa parte c'è Central Park, con dietro il Harlem, Bronze, eccetera. Da quest'altra parte invece c'è World Trade Center con la Statua della Libertà che non si vede. Un paio, World Trade Center, no, World Trade Center, Rockefeller Center, Top of the Rock, il mio inglese è supersonico, e poi proseguire dietro dietro Central Park e via via verso Harlem, eccetera. Questi sono i mega acquisti, con un po' di magliette, ce n'è una che è bellissima. Questa, con un po' di magliette, come mi ricordo, ah no, no, questa è un argotto, questa è bellissima. Vabbè, altre cose, adesso vi faccio vedere tutto. Ecco, ecco i mega acquisti, ma l'abbiamo preso, va buio. Triunfo, questo è il tonno, atunno. Poi abbiamo preso, una mega assorzeria schifosissima, però queste le dovevamo provare. La patatina salsa barbecue. Questa è la cosa che prende il piccolino, sono il platano, due patatine di platano. Poi non potevo non prendere il pickle alla cannella e uvetta, che adoro. Idem con patatarrosto, questi, quelli classici, per farli con burro caddarachidi e marmellata all'arancio. Abbiamo preso i piccolini, così. Poi abbiamo preso i mini pepperoni, salamino uvello per la pizza. Poi i pepperoni, poffettine di salama, la fine, per farci la pizza a casa. Poi le gomme alla fratula, queste che non ho capito bene a che cosa sono. Poi ancora i crackers, questi sono gli unici che non posso mangiare perché sono senza latte. Un mega boccione di latte per piccolino. Ce l'hanno tutti con la vitamina D e altri tipi di vitamine. Poi c'è quello senza grassi, zero grassi, eccetera, eccetera. Poi gli english muffin, che adoro. E da Walmart questi abbiamo pagati 0,80. Grazie a tutti.